Ora mi sentite? Se raggiungiamo 50 like è una piccola sfida che vi pongo Porterò immediatamente entro giovedì, speriamo entro giovedì, forse mercoledì, forse venerdì, però credo giovedì Vi porterò il video sorprese e quindi voi voglio credere principalmente tre cose Intanto, se vorrete essere salutati, mi raccomando scrivetelo qua sotto Che nel video di sorprese che sto preparando vi saluterò Poi, seconda cosa, vi chiedo anche se volete lasciare una dedica Soprattutto per le persone che mi seguono da tempo Ecco, per esempio, questo microfono non mi segue da tempo, quindi via Quindi per quelle persone che mi seguono da tempo, se volete lasciarmi una dedica Che ovviamente dedichi serie e le aggiungerò nel video, cercherò di metterle in maniera più professionale possibile Poi, terza cosa che è praticamente la più fondamentale E se volete darmi un consiglio del mix di cibo che vorrete che io faccio Scrivetemelo qua sotto nei commenti perché io sto cercando un po' di prendere tutto Quindi, ricapitolando, se volete essere salutati, anche le stesse persone possono essere sia salutate E sia potete scrivere una dedica come volete Qualsiasi dedica basta che sia abbastanza seria Cioè, il più credibile possibile E poi, terza cosa, potete consegnarmi i cibi da mixare Ovviamente non mi chiedete le cose Potete chiedermi le cose più verosimili Certo, non mi chiedete cose impossibili perché con questa quarantena non è che posso fare i miracoli Però qualcosa posso farlo Rivelo una cosa che, appunto, voi siete entrati anche nel titolo anche per questo E praticamente la serie degli cibi di Minecraft non la porterò, credo, mai più Oppure ci siamo fermati, ci fermeremo per un bel po' Soprattutto per dei principi che non so se dirvi però, dai sì, qualcosa ve lo dicono all'intanto Ci sono state delle persone che non nominerò Che praticamente mi hanno fatto capire che Essendo che questa serie è stata copiata, no? Perché io essendo un discepolo di Lion, appunto, anche diviso Ma magari La serie degli cibi, essendo una cosa abbastanza simile, non la porterò più Quindi grazie a voi, ora non la porterò Quindi vi ringrazio a voi, care persone, che mi avete fatto capire che questa serie è inutile Insulza, infatti scrivete nei commenti se per voi è una cosa insulza Io non credo però, dato ormai Ma sì, ma tanto Tanto i 6 CPU ho visto anche dai risultati degli scorsi giorni Voi potete dire che non è vero, però io vedo così Quindi essendo una serie poco seguita, visto che non vi piace, visto che viene anche criticata Giustamente, ho deciso di non portarla più per complimenti a queste persone Poi un'altra cosa principale, soprattutto per il video di giovedì sorpresa Spero vi possa piacere, io lo sto strutturando molto bene E poi ovviamente raga, seguitemi anche su Instagram Queste dediche, se volete scriverle di questi anni Potete mandarmele anche su Instagram, se volete Che praticamente questo video sorpresa è un'anticipazione dello speciale 3000 iscritti Non è lo speciale, però è un video congruente Congruente e unito a questo speciale che uscirà Poi ovviamente vi ricordo che stiamo andando a passo l'umaca Quindi secondo me per i 3000 iscritti non arriveremo forse mai, forse fra un anno Cioè, se stiamo facendo 10 alla settimana Vuol dire che ci arriveremo forse fra un anno Quindi se volete condividere potete farlo sia sui gruppi Telegram, Whatsapp Vabbè, li conoscete voi tutti i social, non è che li sto qui a chiedere E quindi niente, poi ovviamente io sono disponibile a riportare Fortnite Perché ieri sera ho visto che su Twitch ci sono stati dei problemi per quanto riguarda le persone che non venivano Forse perché non volevano ma ci sta, perché per carità io devo ancora migliorarmi molto Quindi per le persone che sono venute forse 2-3, non lo so, al massimo 4 Dico che Fortnite non lo porterò né su un secondo canale né su Twitch Quindi rimaniamo su questo Minecraft porterò solo a vanilla, al massimo qualche live E Fortnite è solo che non sono sicuro Magari riportarlo qui con le stesse live anche qui su questo canale Io spero di farlo da computer in maniera abbastanza pulita, bella, con fluido Però ecco mi mancano alcuni parametri da aggiustare su un programmino chiamato BS Quindi se qualcuno è esperto che proprio streama però seriamente Magari se avete qualche aiutino Ecco e poi un'altra cosa volevo dirvi ringrazio quelle persone che appunto dicono che qua dietro abbiamo uno studio epico Infatti credo che anche oggi avremo uno studio epico ovviamente pagato 30 miliardi di euro Quindi ringraziamo queste persone che mi hanno donato 40 miliardi Sono passati 5 minuti, credo che questo video durerà molto breve come quello precedente Quindi vi ricordo superiamoli 50 like per una successione di video per arrivare al video sorpresa Quindi mi raccomando Comunque siete stati grandi nei due precedenti video in cui abbiamo parlato tu per tu Che abbiamo superato i standard dei richiesti Non pensavo veramente che alcune persone erano così buone che ancora mi seguivano Ma veramente grazie comunque Io vi ringrazio Vi lascio qualche social qua sotto Twitch non lo portiamo perché non è una buona idea Ovviamente su Discord devo ancora mandare delle richieste Quindi provate a chiedere qualcosa Io provo a rispondermi Poi ovviamente se avete domande chiedetele Se volete commentare normalmente potete farlo Poi vi richiedo vabbè per la seconda volta tutte quelle cose chiedetele in saluti Io ci sono perché voglio articolarlo bene Qui è Giova che vi saluta Mi raccomando qua sopra due video Mi raccomando andateli a vedere Io vi saluto e ci becchiamo alla prossima